E' facile dopo che si vince. Ho detto anche ai ragazzi che 5-0 l'hanno meritato, quindi bisogna conquistarsi i 5 gol come abbiamo fatto. E' facile dopo il match. Ho detto anche alla mia squadra, bravo per il match, ma non è così facile che il risultato non può dire. C'è un colpo a fianco di Berkay e dopo domani vediamo le condizioni quali saranno i problemi. Di sicuro abbastanza forte perché per uscire dal campo aveva molto male. Peccato perché poteva trovare una forma migliore. Berkay aveva un problema sul fronte. Per sicuro è stato molto pesante perché lui ha chiesto di uscire dal campo. In prossimi giorni vedremo cosa è reale. Il risultato è stato per Berkay. C'è stato grave è stato accidentale. Il risultato non può continuare. Ma in prossimi giorni vedremo quali sono gli problemi. Il risultato è stato per Berkay e il risultato serio. C'è una squadra importante, una squadra forte per arrivare fino a questo punto. sono squadre importanti. Penso che Klaksvik è un buon team. È un buon team. Perché se un club arriva fino a questo punto della competizione è un buon team. Il risultato è un buon team. Il risultato è un buon team. Il risultato è un buon team. Il gruppo. Il gruppo numero uno perché solo con il gruppo può andare avanti. Quindi è la squadra che va avanti, non il singolo. è un buon team. Il risultato è un buon team. Perché per andare avanti, bisogna essere un buon team. Non solo un un giro, ma il numero uno del sheriff è il gruppo. Il risultato è un buon team. quello che è un buon team e la squadra. Il risultato è un buon team. 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 Grazie. grazie